Latte busche alta qualità e alta leggerezza si rinnovano. Una nuova confezione Tetra Pack in cartone per proteggere la qualità del latte locale dei nostri soci produttori e non solo. La nuova confezione in cartone Tetra Rex Plant Based proviene da fonti rinnovabili. Una scelta per proteggere il nostro territorio. Una scelta per proteggere ciò che più amiamo. Scegli Latte Busche alta qualità e alta leggerezza e proteggi ciò che vale in ogni scelta. Grazie per la visione!